Buongiorno, oggi ci occupiamo sempre di conservazione della quantità di moto in un caso particolare, quando avviene l'urto tra due corpi. Urto ovviamente intendiamo per un tempo molto piccolo, cioè il contatto avviene per un tempo molto molto piccolo. In questo caso la forza che agisce per pochissimo tempo sale di colpo e poi scende immediatamente come intensità. Una forza che in pochissimo tempo passa da zero a un valore massimo viene chiamata forza impulsiva, come si dice anche nel carattere di una persona, cioè agisci subito. Grande forza e poco tempo, queste sono le condizioni per un urto. Quando l'urto non deforma i corpi, non ci sono forze esterne, non ci sono energie buttate via, si dice che l'urto è elastico, ovvero si conserva sia la quantità di moto sia l'energia cinetica. Non ci sono deformazioni, due palle di spugna non è un urto elastico, due automobili che si scontrano non è un urto elastico, non perché ci sono deformazioni, ci sono cambi di forma. Come si risolvono i problemi degli urti? Sempre con lo stesso criterio della conservazione della quantità di moto, cioè il prima deve essere uguale al dopo. Abbiamo due bocce, una con direzione orizzontale verso destra, l'altra con direzione orizzontale verso sinistra, di massa diversa, succederà che magari tutte e due, questa torna indietro e questa continua nel suo moto perché ovviamente la sua massa, pensiamo alle bocce. Per risolvere questi problemi impongo la conservazione della quantità di moto. La quantità di moto prima, cioè la somma di m1 v1 m2 v2 prima, sarà uguale alla somma di m1 v1 più m2 v2 dopo. Però saranno diverse le velocità, ho messo un apice per dire che sono diverse. Abbiamo due incognite in questa equazione, questo quindi non è sufficiente per risolvere la nostra equazione. Queste sono le equazioni vettoriali, quando scriviamo la forza scalare, attenzione ai segni, chi va verso destra positivo, chi va verso sinistra negativo. Abbiamo due incognite e quindi ci riferiamo alla doppia conservazione, un urto elastico si conserva sia la quantità di moto, ma si conserva anche l'energia cinetica. Scriviamo un sistema sia con P, quantità di moto, sia con K, energia cinetica, prima e dopo. Le incognite sono sempre due, ma come vedete adesso abbiamo due equazioni per risolverle. Non ci metteremo a fare tutti i calcoli, ci si può rivolgere a questo schemino che ci dà direttamente la velocità finale dopo l'urto della particella numero 1 e la velocità finale dopo l'urto della particella numero 2 mettendo, ma questa è frutto di questo sistema, non ci mettiamo in questa trattazione la matematica per arrivare da una all'altra. Quindi abbiamo per esempio un secondo caso, abbiamo due carrelli che prima sono separati e dopo sono uniti. Questo si chiama urto totalmente anelastico. I due corpi escono uniti, quindi saranno un'unica massa data dalla somma delle due masse e avranno un'unica velocità. Pensiamo ad un proiettile che entra in una scatola di legno per esempio. Dopo l'urto i due corpi si muoveranno insieme, quindi abbiamo prima dell'urto separati la loro somma, dopo l'urto le masse sono unite e avranno un'unica velocità perché il corpo diventa uno solo. Qui il calcolo è molto più semplice, non abbiamo due incognite, quindi ci è sufficiente portare a destra e a sinistra e la questione è fatta. Allora, primo esercizietto. Abbiamo una biglia che colpisce con una velocità di 4 metri al secondo una seconda biglia ferma. Una ha la massa tre volte più piccola dell'altra. Ok? Allora utilizziamo queste formule, questa formula qua e questa formula qua, queste due, e mettendo soltanto i valori all'interno, ricordandoci che al posto di mettere M1 metteremo tre volte M2 o al posto di mettere M2 si potrebbe mettere un terzo M1 che è un po' più scomodo perché c'è la frazione. Facendo i calcoli otteniamo le masse, le mettiamo come letterali naturalmente, otteniamo le due velocità. Nell'esercizio dell'urto totalmente anelastico abbiamo due ballerini o due pattinatori, gara di pattinaggio, lui si muove verso destra, lei si muove verso sinistra, lui ha una massa di 70 kg, lei ha una massa di 50, a un certo punto lui la prende in braccio e diventano un unico corpo, quindi siamo nel caso dell'urto totalmente anelastico. Utilizzeremo la relazione che ci dà direttamente la velocità di uscita dall'urto e quindi abbiamo semplicemente da sostituire i valori di massa e velocità delle due persone per ottenere la velocità verso destra, perché è positiva, come vedete, e questo è ragionevole perché lui che arriva verso destra ha una massa maggiore e la stessa velocità, quindi sarà lui a imprimere la direzione e il verso di percorrenza che sarà ancora il suo verso destra, attenuato dal fatto che adesso lei ha una massa e diventava incontro, quindi non più 4 ma 0,67, ok? Buona giornata!